Sto tornando a casa faccio sentire la musica devo fermarmi alla gas ah ma porca putzola, questo è quello schifoso del cavolo che non posso fare in versione AU guardate, ho fatto il giro del cavolo lì ci sono per andare a fare mangiare, le cose da mangiare ho messo la Radio Country per farvi sentire questo è Gert Brooks, bravissimo questo è... ah e non mi ricordo come si chiama questa, non so, bellissima questa RODIO RODIO TADAAA ma è chiuso qua mi ha una station ora le gas station sono sempre self service non c'è mai lumino neanche morto infatti è un po' palloso bisogna sempre scendere ecco questa è la classica canzone country che fa proprio cagare lenta caramellosa neanche uno sviolino neanche morto non c'è 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 no c'è no c'è Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Allora per il momento è tutto Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Sti cajacks e ci sono incidenti e volano Siamo tutti spacciati Non устano Grazie 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 Buon schennик Almo Grazie 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 So I non personalizzati Sì, senti senti un'email back e let me know you're a live person. Other than checking on Carla, that's all I've checked for. To see if I'm still alive and on there. No worries. I'd like Mike and, uh, to do XRSPP or show up and you go right here. Well, Mike's been doing a lot of consulting work. Grazie a tutti.